La comunità brindisina piange le sue due prime vittime per il coronavirus. Si tratta di due pazienti anziani che sono morti nella giornata di domenica presso l'ospedale Perrino di Brindisi e presso la casa del sollievo di San Giovanni Rotondo. Al Perrino è deceduto un paziente ultra settantenne di San Vito dei Normanni che era affetto da gravissime patologie e che pare avesse contratto il virus durante un viaggio compiuto presso strutture sanitarie del nord proprio per tentare una disperata terapia. Si tratta dello stesso caso che era stato indicato come positivo alcuni giorni fa dal sindaco di San Vito Domenico Conte. Un pensionato di Mesagna invece è deceduto presso la casa sollievo di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato qualche tempo fa per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. È stato lì che è stata riscontrata la sua positività. Le terapie messe in atto non sono state sufficienti a salvargli la vita. Secondo quanto annunciato dal sindaco di Brindisi Riccardo Rossi sono sei casi di positività nel capoluogo tre dei quali assistiti in casa e tre presso l'ospedale. Quattordici complessivamente. I nuovi positivi in provincia di Brindisi secondo il bollettino diffuso dalla Regione Puglia. Tre nuovi casi positivi al Covid-19 coinvolgono ancora Ostuni. Si tratta di persone che avevano avuto contatti con l'infermiera dell'ufficio igiene anch'essa positiva. Un nuovo episodio di coronavirus anche a Carovigno. E proprio a Carovigno, uno dei comuni più bersagliati in provincia di Brindisi, il sindaco Massimo Lanzilotti è salito al santuario di Belvedere per chiedere l'intercessione della Madonna contro l'epidemia. Come primo cittadino di Carovigno e rappresentanti di quanti vi abitano affido e consacro al tuo cuore immagolato le nostre persone, le nostre famiglie, il nostro lavoro, le nostre case.